Via libera dell'assessorato regionale territorio e ambiente alla via VAS del nuovo piano regolatore generale del comune di Sciacca scattano adesso i primi nove mesi per poter ottenere l'adozione dello strumento urbanistico. Bilancio di previsione, il collegio del revisorio dei conti ha espresso parere favorevole, il documento da ieri all'esame della competente commissione consigliare, si completa intanto il tavolo tecnico sull'imposta di soggiorno. Il comune di Sciacca ha previsto di incassare 4 milioni di euro da imposte non pagate negli ultimi 5 anni, lo ha fatto attraverso il ravvedimento operoso, istituto che consente ai cittadini non in regola di ottenere delle rateizzazioni. Inizierà il primo giugno la pulizia giornaliera delle spiagge del litorale Saccense ma resta sul tappeto la questione della viabilità e dei parcheggi in prossimità delle spiagge, problema che si conta di superare con l'intervento dei privati. Non sono intervenuto per difendere mia sorella ma perché non ho sopportato di essere stato tirato in ballo su un tema importante come l'acqua, così all'ospite il sindaco di Santa Margherita torna sulla polemica con il centrodestra Saccense. Impianti sportivi, nessun progetto per lo stadio Gurrera o per l'alternativo Giuffre, l'amministrazione Valenti non ha a cuore lo sport e l'impiantistica sportiva, così oggi i consiglieri di opposizione Calogero Bono e Giuseppe Miglioti. Un cordiale benvenuto, bentrovati su Telemonte Cronio per un nuovo appuntamento con la nostra informazione. L'assessorato regionale al territorio e ambiente ha dato il via libera alla lunga procedura per il riconoscimento della valutazione di impatto ambientale e della valutazione ambientale strategica del nuovo piano regolatore generale. Da questo momento in poi scattano i primi nove mesi per poter ottenere l'adozione dello strumento urbanistico. Ascoltiamo l'assessore Giacchino Settecasi, intervistato telefonicamente da Massimo D'Antoni. Assessore Settecasi, quali sono le ultime novità che riguardano l'itere del piano regolatore generale di Sciacca? Proprio a Sena, cinque minuti fa, è arrivato finalmente l'atteso decreto a firma dell'assessore e con questo finalmente dopo anni si chiude quello che era la parentesi della via bassa. Quindi è un fatto molto importante e soprattutto un fatto che ripeto era da anni che c'era. Valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica, queste sono le certificazioni ottenute? Sì, 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 queste sono le certificazioni che erano oltretutto il profetero di Calpeano, adesso possiamo proseguire per quel che riguarda l'iter conclusivo del PRG di Sciacca. E in che modo proseguirà questo iter? Con tempi certi. E dico, in che modo proseguirà questo iter? Adesso ci sarà l'eclue e la regione che esamineranno il piano e dentro nove mesi speriamo che approveranno il nostro PRG di Sciacca. La sua sensazione qual è? Da politico ma anche da tecnico? Io spero che nel breve tempo possibile possiamo finalmente darci del cosiddetto famoso PRG. Spero che dentro questi nove mesi ne faremo tutto il possibile come comune, come amministrazione, per portare con alcuna necessità. Se ci sono delle prestazioni che faranno, questo lo vedremo. Quindi in tutto la nostra buona volontà è quella di chiudere il prima possibile e considerare che ormai dura veramente da molto tempo. E' pur vero, questo lo dobbiamo dire, che loro hanno nove mesi più nove. Noi speriamo di chiuderlo prima possibile. Bilancio di previsione. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole il documento di programmazione economica e da ieri all'attenzione della competente commissione consigliare. Intanto è stata finalmente completata la composizione del tabolo tecnico sull'imposta di soggiorno. L'assessore Filippo Bellanca annuncia che sarà convocata a breve la prima riunione. Sentiamo. Parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti al bilancio 2018 del comune di Sciacca. Superato dunque il primo scoglio e il documento di programmazione economica è da ieri all'esame della competente commissione consigliare. Lo ha trasmesso il presidente Pasquale Montalbano che ricorda come l'organismo abbia 30 giorni di tempo per completare il lavoro ed esprimere il parere. Solo dopo tale adempimento si potrà convocare il Consiglio Comunale per la discussione e l'approvazione in via definitiva. Se la commissione utilizzerà tutto il tempo a disposizione previsto dal regolamento ciò significa che il bilancio approderà in aula Falcone e Borsellino a fine giugno primi di luglio. Nel frattempo c'è da attendere anche la presentazione di eventuali emendamenti da parte dei consiglieri. Non siamo in netto ritardo come è avvenuto negli ultimi anni quando il bilancio è stato approvato l'anno successivo a quello di riferimento tanto da far parlare di consuntivo ma non siamo neanche a quel netto anticipo o al rispetto della scadenza al quale ambiva il sindaco Francesca Valenti. I bilanci dei comuni avrebbero dovuto già essere approvati anche se sono pochi, se non pochissimi, gli enti locali che hanno rispettato il termine. In realtà la Giunta Valenti aveva approvato lo schema di bilancio il 19 aprile scorso e oggi dovremmo ritrovarci con il documento già adottato in via definitiva dal Consiglio Comunale. Ci sono stati dei disguidi, si è dovuto rivedere qualcosina probabilmente i tempi sono slittati. Sul bilancio 2018 si incentrerà il dibattito politico nelle prossime settimane e il primo interamente attribuibile alla Giunta Valenti che tra meno di un mese festeggerà il primo anno di mandato. C'è grande attenzione da parte delle opposizioni dunque anche in virtù delle aperture del primo cittadino che già in occasione dell'adozione in Giunta ebbe modo di dichiarare la disponibilità ad accogliere eventuali proposte avanzate dai consiglieri ritenute accoglibili. In termini di confronto e apertura peraltro va rilevato il superamento delle polemiche relative al tavolo tecnico sull'imposta di soggiorno. Anche la componente che fa riferimento ai consiglieri Bono e Miglioti ha individuato il proprio rappresentante all'interno dell'organismo per inciso si tratta di Giuseppe Miglioti e adesso tocca all'assessore al turismo procedere alla convocazione del tavolo tecnico. Sarebbe la prima riunione, pare che possa essere organizzata a breve e un'occasione di confronto su un tema che da sempre anima il dibattito politico in città ossia l'utilizzo dei proventi dell'imposta di soggiorno alla luce peraltro degli ulteriori introiti che si prevedono per quest'anno con l'aumento deliberato dalla Giunta Valenti. Dai 700 mila euro incassati fino allo scorso anno a un milione di euro queste sono ovviamente previsioni i numeri dovranno essere confermati dalle presenze turistiche ma è chiaro che rispetto al passato tutto lascia presupporre che si arriverà a questa considerevole somma a disposizione dell'amministrazione comunale. Il comune di Sciacca ha previsto di incassare 4 milioni di euro da imposte non pagate negli ultimi 5 anni lo ha fatto organizzando il ricorso al ravvedimento operoso un istituto che consentirà ai contribuenti non in regola di potersi rimettere in carreggiata anche con rateizzazioni fino a 72 mesi. Sentiamo. Nel bilancio di previsione 2018 trasmesso dalla Presidenza del Consiglio Comunale l'amministrazione Valenti prevede di incassare almeno 4 milioni di euro da tributi non pagati negli ultimi 5 anni una previsione che si basa sul ricorso a tre importanti istituti attraverso necessarie modifiche al regolamento uno di questi istituti è il cosiddetto ravvedimento operoso consiste nella possibilità del contribuente non in regola di comunicare al comune la volontà di pagare quanto dovuto con l'applicazione di una sanzione ridottissima un'operazione utile per evitare di vedersi accollare le sanzioni ben più consistenti del classico accertamento 4 milioni di euro per le posizioni tributarie dagli anni 2013-2014 il 2013 è la prima annualità sulla quale si può intervenire sulla base del periodo di prescrizione previsto dalla legge che è di 5 anni il secondo istituto sul quale il comune ha deciso di puntare è quello della rateizzazione il contribuente potrà mettersi in regola pagando un tot al mese addirittura fino a 72 mesi ossia 6 anni un modo evidente di tentare di andare incontro ai problemi di quelle famiglie che non sono in grado di fronteggiare spese anche importanti in un'unica soluzione il terzo istituto utilizzato sarà quello della compensazione tra debiti e crediti misura questa che sembra più rivolta alle aziende che ai singoli contribuenti non escludendo naturalmente che possano configurarsi scenari diversi attraverso questo sistema si risolvono possibili contenziosi tra tasse non pagate e fatture di fornitura di servizi al comune non riscosse sembra un'altra delle misure sancite dalla task force per recuperare i crediti del comune i tributi comunali sono quelli noti Tari, Imu, Imposta sulla pubblicità, Cosa, Possia, Suolo Pubblico e poco altro la misura della rateizzazione sarà disponibile per tutte le voci in questione nel 2017 al comune di Sciacca erano stati stimati in ben 13 milioni di euro i fondi non incassati da tasse non pagate da cittadini ed imprese una condizione gravissima motivo di riflessione sia perché in questo modo è difficile garantire i servizi minimi essenziali sia perché non è corretto che continui ad esserci chi paga e chi non lo fa la previsione di introitare almeno 4 milioni da questi provvedimenti non è sovrastimata a dispetto di quanto si possa immaginare questo significa ancora una volta evidentemente che se veramente pagassimo tutti pagheremmo sicuramente meno rimangono gravissime le condizioni della bambina di 7 anni coinvolta nell'incidente nel quale ieri mattina hanno perso la vita la mamma Maria Stella Traina il fratellino di 4 anni la piccola che dopo il volo di circa 20 metri dal viadotto ha riportato lesioni polmonari, un pesante trauma cranico e diverse fratture è ancora in prognosi riservata anche se con il passare delle ore i medici iniziano ad esprimere un cauto ottimismo a pregare per lei l'intera comunità di Santo Stefano di Quisquina vicina al papà che da ieri accanto alla figlia nella tragedia di aver visto morire la moglie e il figlio eletto di 4 anni una famiglia molto nota nel piccolo centro che domani sera alle 21 darà vita ad una fiaccolata che partirà dalla chiesa del Carmine e si concluderà nella chiesa madre del paese con una veglia di preghiera per la bambina che lotta tra la vita e la morte come ha annunciato ieri al nostro telegiornale il sindaco di Santo Stefano Quisquina sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali di Maria Stella e del suo figlio eletto è in fase di ripristino la distribuzione idrica sciacca dopo il guasto ai pozzi carboi dalla società che gestisce il servizio idrico fanno sapere che gli operai hanno ultimato l'intervento relativo al guasto elettrico e che dunque man mano l'erogazione idrica dovrebbe tornare alla normalità nelle zone Isabella, Carbone e in alcune parti del centro abitato disagi intanto vengono lamentati dai residenti della zona di Via Mazzini dove l'erogazione negli ultimi giorni sarebbe piuttosto altalenante e i turni prima giornalieri adesso sarebbero a giorni alterni e distribuiti in orari sempre diversi tanto da far dire ai residenti di essere ostaggio dell'erogazione idrica di quando e se verrà erogata l'acqua nella zona problemi nella distribuzione idrica oggi comunicano da girgenti acque si registreranno anche a Sambuca dove dopo l'ennesima perdita idrica sulla condotta principale si è reso necessario lo spegnimento delle pompe del sollevamento conserva quindi niente distribuzione idrica nel comune di Sambuca nelle zone che vengono approvvigionate dalle pompe di zona conserva a causa dell'intervento di manutenzione i tempi anche in questo caso di cui parla il gestore idrico sono quelli relativi al ripristino del guasto inizierà il primo giugno la pulizia giornaliera delle spiagge del litorale Sacenze ma resta sul tappeto la nostra questione della viabilità e delle aree da destinare a parcheggio in prossimità delle spiagge un problema questo che riguarda in modo particolare la contrada San Marco e che il comune conta di risolvere mediante l'intervento dei privati sono già arrivate le prime disponibilità sentiamo inizierà il primo giugno la pulizia giornaliera delle spiagge del litorale Sacenze che sarà assicurata ininterrottamente fino a settembre gli interventi effettuati fino ad ora dalle ditte che secondo quanto previsto dal piano Aro gestiscono anche questo servizio oltre alla raccolta e smaltimento del rifiuto e scerbatura hanno riguardato la pulizia straordinaria meccanizzata spiagge comunque pronte ad accogliere bagnanti per il primo fine settimana di giugno anche se già domenica scorsa in tanti hanno approfittato della bella giornata e delle temperature già favorevoli e già domenica scorsa sono emersi i primi problemi relativi alla viabilità soprattutto nel ritorale di San Marco storia nota con auto parcheggiate lungo tutta la strada che costeggia la spiaggia e conseguenti ingorghi è necessario poter disporre di area di parcheggio oltre a quelle degli stabilimenti balneari a pagamento il comune di Sciacca come fa da ormai da anni ha già pubblicato l'avviso si tratta in realtà di una sorta di manifestazione di interesse da parte dei privati proprietari di area nella zona di San Marco non possono essere considerati veri e propri parcheggi necessiterebbero in tal caso di rilevanti interventi ma sono aree che con una pulizia e una minima sistemazione alleggeriscono non poco la viabilità nel litorale più frequentato di Sciacca al momento sono pervenute cinque disponibilità ma per una delle aree vanno fatti approfondimenti maggiori sarebbe necessaria una vera e propria bonifica e potrebbe non esservi l'immediata disponibilità per altre quattro non dovrebbe sussistere invece particolare problema si tratta di trovare l'intesa con i proprietari e farlo in fretta perché l'estate ormai è alle porte nessuna disponibilità è arrivata per contrada Maragani cheppure era stata inserita nell'avviso diramato dal comune di Sciacca anche questa località negli ultimi anni è diventata di grande attrattiva ma anche qui il problema è dove parcheggiare le auto il sindaco di Santa Margherita Belice Franco Valenti protagonista questa settimana della puntata dell'ospite torna sulla recente polemica con il centrodestra Sacenze e chiarisce le ragioni per le quali è intervenuto non in difesa della sorella sindaco di Sciacca dovrei farlo tutti i giorni è dichiarato ma perché non ho sopportato di essere tirato in ballo su una tematica così importante come quella dell'acqua sentiamo e di alcuni giorni fa la polemica politica tra il centrodestra Sacenze e il sindaco Valenti non solo Francesca sindaco di Sciacca ad essere tirato in ballo sulla vicenda acqua è stato anche il fratello Franco Valenti sindaco di Santa Margherita Belice il contesto era quello della mancata partecipazione dell'amministrazione comunale all'audizione in Commissione Salute dell'ARS riunione alla quale era stato invitato a partecipare in realtà il presidente dell'ATI Vincenzo Lotà per la prima volta il collega sindaco e fratello di Francesca Valenti aveva reagito riapplicando in maniera piccata i consiglieri di centrodestra alla trasmissione l'ospite che andrà in onda dopo domani sulla nostra emittente Franco Valenti chiarisce per quali ragioni non si è sottratto alla polemica fuori confine perché stavolta non ce l'ha fatta e glielo spiego subito premesso che non mi sono mai stato Sciacca la guardo certo la guardo con attenzione con maggiore interesse anche perché io a Sciacca ho tanti amici a Sciacca ho studiato a Sciacca diciamo che per certi versi ho anche vissuto per cui Sciacca non c'è dubbio che è fra i miei interessi però a tutto c'è un limite che cos'è subbettato il fratello maggiore perché se dovesse essere il fratello maggiore mi danno ogni giorno avrei l'opportunità di intervenire diciamo avrebbe stimoli tutti i giorni è stato proprio lei non ha sopportato il fatto che sia stato tirato in ballo quindi come singa con un'altra realtà l'assoluta illogicità della chiamata in causa e tra virgolette come ho già detto prima che era una cosa così campata in aria che io onestamente e non voglio andare nemmeno sul merito diciamo della forma di ciò che hanno scritto una cosa proprio che appena l'ho letta ma non ma poi è tutta una polemica perché un sindaco non va a una riunione dove non è stata invitata già la premessa non dovrebbe avere nessuna conseguenza logica ma detto ciò però arrivare a un fatto che è molto grave da un punto di vista mio personale perché io sto molto attento all'eticità dell'impegno politico allora che qualcuno possa pensare che il sindaco di Santa Margherita interviene su sua sorella per chiedere danneggia i tuoi cittadini perché così io mi avvantaggio è una cosa che non sta né in cielo né in terra e non permetto nemmeno ai miei cari amici perché questa è gente con cui io ho condiviso anche tante battaglie politiche che conosco bene e che mi conoscono e per cui se la potevano proprio risparmiare il proposito è quello di non interferire più nella polemica politica tutta saccienza anche se Franco Valenti dice la sua sui toni che ritiene esasperati io che non voglio assolutamente mettermi nei fatti di Sciacca politici che potrei essere appunto frainteso poi una volta che Francesca è il sindaco di Sciacca penso che non me ne debba occupare io però guardi non c'è dubbio che qualche cosa va corretto nella dialettica politica di Sciacca va corretto te lo dicevo io sono il sindaco di un comune dove sui fatti importanti non esiste l'opposizione non esiste l'opposizione io non ho l'opposizione consigliare noi dopo le elezioni ne ripartiamo dopo 5 anni nessun progetto per lo stadio Gurre era l'alternativo Giuffre a dimostrazione di come da parte dell'amministrazione Valenti non ci sia alcun interesse nei confronti dell'impiantistica sportiva a sostenerlo sono oggi i consiglieri Calogero Buono e Giuseppe Miglioti in riferimento alla mancata partecipazione del comune di Sciacca ad un bando regionale sentiamo è la mancata partecipazione del comune di Sciacca ad un bando regionale è scaduto il 17 maggio scorso ad offrire lo spunto ai consiglieri di opposizione Calogero Buono e Giuseppe Miglioti per tornare ad attaccare l'amministrazione comunale sui temi dello sport amministrazione accusata di disinteresse nei confronti dell'impiantistica sportiva visto che nessun progetto è stato presentato per lo stadio Gurrera né tantomeno per il campo alternativo Giuffre un bando che per Buono e Miglioti l'amministrazione avrebbe potuto sfruttare per la collocazione del manto in erba sintetica o al Gurrera o al Giuffre tra l'altro più volte sollecitata dall'opposizione ieri con grande amarezza abbiamo appreso che nessun progetto relativo a questi due impianti è stato presentato riferiscono i due consiglieri comunali Calogero Buono e Giuseppe Miglioti riferiscono anche di aver parlato in assenza dell'assessore allo sport con gli assessori Neri e Dalongi i quali con grande imbarazzo avrebbero lasciato trapelare la poca autonomia politico-amministrativa di cui godono e quindi per non meglio precisati motivi riferito che non c'è alcun progetto pronto in merito perché questa indifferenza nei confronti dello sport e del calcio in particolare si domandano i due consiglieri evidenziando come l'unico progetto presentato sia quello per il pallone tenda che non si sa fino a che punto sia opera dell'attuale amministrazione per buone milioti all'aggiunta Valenti manca la visione progettuale di città ed uno staff che si occupi di redigere progetti e individuare finanziamenti e nel domandarsi come mai il sindaco continui a mantenere la delega allo sport senza in realtà occuparsene concludono evidenziando che non avere progetti pronti vuol dire essere incapaci e non accettare le proposte dell'opposizione significa essere tutt'altro che aperti ai consiglieri di tutte le forze politiche nessuna novità da Grigento in ordine al documento che manca all'appello per poter procedere alla stipula del contratto tra i ACP è ditta che si è giudicato ai lavori di demolizione e ricostruzione degli alloggi popolari eppure il prefetto ha dato come termine ultimo la giornata di ieri per completare la documentazione ex residenti disponibili ad aspettare solo questa settimana dopodiché in assenza di notizie riprenderà la mobilitazione sentiamo Tutto tace in ordine al certificato che ancora manca all'appello per poter procedere alla stipula del contratto tra Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento è ditta che si è giudicato ai lavori di demolizione e ricostruzione degli alloggi popolari di Largo dei Martiri di Viafania a Ribera stipula del contratto in assenza della quale i lavori non possono iniziare è scaduto ieri il termine indicato dal prefetto di Agrigento che durante l'incontro della scorsa settimana con i vertici dello IACP durante il quale si era appreso che manca un certificato antimafia di un componente dell'impresa esecutrice delle opere aveva chiesto che il problema venisse superato entro lunedì cioè entro ieri e invece non si registra alcuna novità da Agrigento nessuna notizia gli ex residenti oggi al nostro telegiornale fanno sapere che aspetteranno di vedere cosa succede durante questa settimana trascorsa infruttuosamente anche questa ulteriore settimana dal 4 giugno prossimo riprenderà la mobilitazione cittadini che come è noto la scorsa settimana erano pronti ad andare ad occupare la sete dello IACP istituto che a Ribera attraverso i suoi vertici aveva garantito agli ex residenti degli alloggi che i lavori sarebbero iniziati entro maggio poi l'intervento del prefetto e la richiesta rivolta ai residenti di temporeggiare in attesa che in prefettura si svolgesse l'incontro con lo IACP vertice che si è concluso con un ulteriore rinvio visto che allo stato attuale dopo sei mesi dall'approvazione del progetto la documentazione è ancora incompleta e impedisce la sottoscrizione del contratto con la ditta esecutrice delle opere diventa un caso l'annunciato spettacolo di Fabrizio Bracconeri in programma durante la festa di San Pietro più volte il profilo dell'attore è stato bloccato da Twitter per le sue dichiarazioni di estrema destra sentiamo ma come mai l'amministrazione comunale di Sciacca patrocina un'iniziativa che prevede la presenza del signor Fabrizio Bracconeri a chiederlo in una mail inviata al sindaco Francesca Valente è stato un utente di Twitter non si accenze il quale evidenzia che l'attore romano noto al grande pubblico per aver fatto parte del cast dei ragazzi della terza C recentemente ha fatto parlare di sé per quelli che vengono definiti farneticanti proclami inneggianti al fascismo e al razzismo Bracconeri si esibirà la Sagra del Mare in occasione della festa di San Pietro a Sciacca sabato 30 giugno a partire dalle 22.30 porterà a Sciacca uno spettacolo dal titolo Risate in Musica con la Bracco Band uno spettacolo che alternerà all'interno del suo show momenti musicali e momenti di cabaret ho pensato di radunare una band la Bracco Band con quattro musicisti professionisti veri ci sarà un cantante che si chiama Armand che conoscete sicuramente che è colui che ha fatto The Voice e si farà musica non anni 60 anni 70 anni 90 non categoreremo gli anni ma faremo i classici italiani li faranno loro io non faccio musica e io farò siccome lo spettacolo si chiama Bracco Band non solo musica ci sarà la parte musicale e la parte dove io parlerò col pubblico giocherò col pubblico schercerò col pubblico e farò lo spettacolo di intrattenimento messaggio principale di questo show sarà però la sensibilizzazione nei confronti dell'autismo Bracco Neri papà di un ragazzo autistico sostiene l'associazione Insieme per l'autismo e Parla Autismo Onlus per girare l'Italia ed avvicinare il pubblico ad un tema così importante ma così delicato utilizzando la musica e la comicità lo spettacolo di Sciacca sarà gratuito dal momento in cui la notizia dello spettacolo di Bracco Neri e Sciacca è stata diffusa diverse persone hanno cominciato a sollevare una ragione di opportunità nei mesi scorsi il profilo Twitter di Fabrizio Bracco Neri era stato sospeso dopo una sua critica tutt'altro che leggera nei confronti dell'ex ministro Chienge oggi parlamentare europeo l'orientamento politico dell'attore romano è chiaramente di estrema destra come dimostra peraltro la stessa tessera onoraria di Forza Nuova che gli è stata consegnata poco tempo fa i tweet di Fabrizio Bracco Neri sono sempre piuttosto coloriti con ricorso specifico in particolare agli attributi maschili dai quali si devono togliere a turno il PD gli immigrati la Boldrini e proprio pochi giorni fa perfino il presidente della Repubblica Reo dal punto di vista dell'attore di non avere permesso la nascita del primo governo pentaleghista della storia l'amministrazione comunale di Sciacca al momento non ha ritenuto di prendere posizione su questa vicenda tutti ovviamente hanno il diritto di esprimere le proprie opinioni politiche e ci mancherebbe altro Bracco Neri lo fa senza alcuna attenzione al politicamente corretto anzi un personaggio pubblico che ha un ascendente sulle persone forse dovrebbe rendersi conto che i toni e le parole sono piuttosto significative Scuola ha concluso il progetto di inclusione sociale denominato Incluso o me organizzato all'istituto comprensivo Dante Lighieri di Sciacca il progetto attraverso laboratori di canto e di teatro ha coinvolto alcuni studenti della primaria della secondaria e loro rispettivi genitori sabato scorso l'esibizione all'auditorium Amato Vetrano vediamo sabato scorso all'istituto Calogior Amato Vetrano di Sciacca si è svolta la manifestazione conclusiva organizzata dall'istituto comprensivo Dante Lighieri di Sciacca del progetto di inclusione denominato Incluso me con il laboratorio di pratica corale coro a più voci e il laboratorio di drammatizzazione realizzati dalle docenti Caterina Bufalino e Giussi Agozzino il progetto ha coinvolto 19 alunni delle classi quarte di scuola primaria e delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado e i loro rispettivi genitori nel laboratorio di canto e 22 alunni delle classi quarte E ed F nel laboratorio teatrale Anzi ora che ci penso avrei proprio bisogno di una manicure ciao ciao Starletta per la informazione l'ora di ricreazione è stata abolita quando Bob il pesce cane ha cominciato a sgonchiare la sedipanella in classe ops è vero l'avevo dimenticato ma non importa senza merenda saremo più magre e più belle ora va il preside lo spettacolo finale ha visto l'esibizione del coro degli alunni dei genitori della scuola e il musical una sirena di nome serena affrontando temi come il rispetto delle regole la convivenza civile e la legalità elemento innovativo del progetto è stato proprio il coinvolgimento dei genitori dei ragazzi che con la loro partecipazione attiva hanno accompagnato i propri figli in questa esperienza e condiviso insieme a loro e ai docenti l'esperienza formativa la fidappa di sciacca presenta la carta della bambina strumento ispirato alla convenzione ONU sui diritti dell'infanzia che intende stimolare l'opinione pubblica ad un'azione di contrasto alle disparità di genere domani mattina alle 10 alla sala Blasco del comune di sciacca la cerimonia di presentazione a cui prenderanno parte i sindaci degli otto comuni che hanno deciso di adottare la carta della bambina si tratta dei sindaci di Burgio Santa Margherita Montevago Sambuca Menfi Caltabellotta Ribera e Sciacca della natura e di altri demoni è il titolo dello spettacolo che il laboratorio teatrale del fazello di Sciacca presenterà giovedì 31 maggio alle 18 nell'atrio del liceo classico una rappresentazione liberamente ispirata ai testi di Euripide e Shakespeare adesso i consigli della Mondadori superati i 40 anni un uomo diventa interessante una donna zitella ma Teresa Papavero non se ne crucia ha ben altre preoccupazioni dopo aver perso l'ennesimo lavoro in circostanze a dir poco surreali decide di ritornare a Strangola Galli borghetto a sud di Roma nonché suo paese nativo l'unico posto dove ricominciare in tranquillità e invece la tanto attesa serata romantica con Paolo conosciuto su Thunder finisce nel peggiore dei modi mentre Teresa è in bagno il ragazzo si butta dal terrazzo suicidio o piuttosto omicidio a peggiorare la situazione la misteriosa scomparsa di Monica Tonelli una delle ospiti del B&B che Teresa ha aperto nella casa paterna con la complicità di Gigia la sua amica del cuore tutto il paese è in subbuglio perché la sparizione della donna viene addirittura annunciata nel famoso programma dove sei Teresa si trova risucchiata in una girandola di intrighi in un susseguirsi di imprevedibili colpi di scena tanto a Strangola Galli non succede mai niente Teresa Papavero è la maledizione di Strangola Galli dichiara Moscardelli Edito Mondadori è tutto siamo in chiusura ci fermiamo qui torniamo puntuali nelle prossime edizioni con gli aggiornamenti arrivederci a l'iscrizione a Grazie.